Ma che partita abbiamo visto? Ma cosa abbiamo visto? Napoli-Atalanta 3-0 per l'Atalanta in trasferta, in casa del Napoli. L'Atalanta torna a fare paura perché si porta a secondi classifica aspettando oggi l'Inter, ma comunque rimango a secondi classifica davanti alla Juve, davanti alla Fiorentina, davanti alla Lazio, davanti al Milan e momentaneamente davanti all'Inter, anche se difficilmente lo saranno dopo la partita contro il Venezia. Ma io sono veramente scioccato da questa partita, onestamente. Il Napoli che ha letteralmente preso a schiaffi l'Inter, cioè il Napoli scusate, l'Atalanta ha veramente schiaffeggiato il Napoli, mi verrebbe da dire. Gol di doppietà e l'Ukbank, ragazzi, per quanto in giocatore a volte è un pochino incostante, ma quando si accende, si accende. E poi, per chiudere, tutto in bellezza, un Reteghi che non parte clamorosamente titolare, mettendo come prima punta, incredibilmente, mi verrebbe da dire, De Ketner, perché era ormai un ruolo che stava piano piano perdendo sempre di più nel tempo. E dall'altra parte troviamo l'altro rovescio della medaglia, ovvero Kwaratsky, Apolitano e Lukaku, totalmente annullati dalla difesa dell'Atalanta. Gincity, Hien e Collagenatz hanno fatto oggi un lavoro straordinario, e anche con Sunu quando è entrato, chiudendo totalmente gli spazi a questo Napoli che ha avuto quattro occasioni in croce. Mentre invece Lukman va a sfruttare gli assist di De Kettner, prima un assist sugli sviluppi in Coltner. De Kettner che anticipa il difensore, pallone che arriva là a Lukman, che la deve semplicemente isacchiare. Poi arriva là anche il secondo capolavoro, De Kettner, pallone che dall'altra parte per Lukman, che fa un gollaccio, un gollaccio, veramente un gol assurdo, infilando merette. Poi alla fine, tanto per non farci mancare niente, chiudiamola così, 3-0, con Bellanova che da subentrato fa un assist a un altro subentrato, come vi ho detto poco fa, ovvero a Matteo Reteghi, la mette dentro, facciamo 3-0, incredibilmente. Un'Atalanta che, allora, io non mi viene a dire title contender, vi dico la verità, non è per me title contender, ma vi spiego i motivi. L'Atalanta fa, cioè, teoricamente possono contendere al titolo, ma l'Atalanta fa sempre queste prestazioni dove paiono essere la squadra di Dio, fa sempre queste prestazioni, e già all'inizio di stagione abbiamo visto, con il 6-0, 6-1, mi ricordo, con Lecce, poi c'erano state altre partite, e poi ci sono a volte dove tornano totalmente normali, dove fanno degli inciampi clamorosi, mi verrebbe a dire. Ma oggi hanno dimostrato di essere veramente una squadra fortissima, cioè, che se veramente giocano tutte le partite così, fanno di tutto. Cioè, a centrocampo hanno Ederson, Marten Deron e Pajalic, senza contare anche quelli panchinati, mi verrebbe a dire, perché comunque la panchina è di tuttissimo rispetto, anche quella del Samartic su tutti, Brescianini, che è subentrato dopo. L'Atalanta può avere delle carte, cioè, oggi, secondo me, non aver fatto giocare ai Teghi è stata una carta, un azzardo grandissimo, perché comunque c'era un De Ketteler che non veniva a un grande periodo, e un Pajalic che comunque si sta affrontando un buon periodo, ma comunque c'è un De Ketteler che non veniva a un grande momento. E la carta di far giocare il De Ketteler al posto suo è stata, secondo me, la carta decisiva, perché hai dato quella grande imprevedibilità a questa partita. Ed era una cosa che non ci si aspettava più di tanto, secondo me, da parte dell'Atalanta, che viene da tante partite, secondo me. Cioè, sono parecchie le partite, mi pare che l'Atalanta non sta steccando. A parte quella in Champions League col Celtic, che è la parigiata, ma veniva comunque da, in campionato, quattro vittorie di fila, contando anche la Champions, cinque vittorie, escludendo il pareggio col Celtic. E contando solamente i buoni risultati, i risultati della striscia positiva, arriviamo addirittura alla partita contro il Como, mi è caduta una cosa un attimo, alla partita contro il Como come ultima sconfitta, che comunque sono tipo metà settembre. È un mese e mezzo almeno che non perde questa Atalanta. E l'Atalanta continua a macinare e continua a avere una... Cioè, proprio le carte, secondo me, sono quelle che scombussano l'avversario. Perché loro hanno una varietà di rosa e dei giocatori che possono giocare in più posizioni, che va a scombussolarti a squadra. Perché un giorno l'Atalanta può decidere di lasciare Ederson in panchina, e tanto loro hanno Samartic. Un giorno puoi permetterti di lasciare Luckman o De Ketteler in panchina, tanto c'è Brescianini. Oppure fare Brescianini-Pasalic. Oppure sull'esterno poter mettere Zappacosta o Bellanova. Oppure mettere Bellanova come braccetto. Oppure mettere come centrali difensivi Kien e Kossunu. Oppure non mettere loro e metterci Godfrey. Non lo so che Godfrey non sta proprio giocando. Ho fatto l'esempio sbagliato, anche Raffael Toloi, ma che comunque là ci sono. E possono comunque dare il loro contributo. Si possono permettere di cambiare le carde in regola ogni volta. Cosa che teoricamente qualche giocatore del Napoli può fare. Come ad esempio far giocare Spinazzola. Come far giocare Nerish. Ma comunque non hanno la varietà di rosa. E i giocatori con caratteristiche diverse, ma che sono comunque delle bestie. Come quella dell'Atalanta. Per quanto io abbia fatto tanti complimenti all'Atalanta, tornevo al Napoli anche. Perché il Napoli oggi è stato veramente brutto. Cioè, buongiorno, mi viene a dire bullizzati. Ma secondo me è mancato proprio quel qualcosa. Forse un po' di centrocampo è mancato. Forse è mancato un po' sugli esterni. Non lo so. Ma comunque... Una prestazione più che negativa per il Napoli. Non dico che adesso serve un buon anno di umiltà. Perché comunque quello che hanno fatto nelle prime sei giorni... No, nelle prime sei. Nelle prime dodici, anzi, escludendo quella con la Juve, nelle prime... Non mi ricordo a che giornata siamo. Undici o dodici. Ah, nelle ultime nove. Mettiamola così. Prima di questa partita abbiamo visto tutti. Hanno vinte tutte, se non sbaglio. Le hanno vinte tutte, se non sbaglio. Esclusi due pareggi. Che comunque erano pareggi che ci potevano stare. E venivano da un'altra partita contro il Milan. Che era un big match. Che comunque tu ti eri messo in vantaggio. E l'avevi controllata. Quindi, questo Napoli va comunque tenuto sotto occhio. E la prossima settimana c'è lo scontro. Lo scontro, in caso dell'Inter vincesse, lo scontro al vertice. Napoli-Inter. Non lo so. Voglio veramente... Sono curiosissimo di vedere cosa accadrà prossima settimana con quel match. Ma soprattutto sono curioso di vedere anche questa Atalanta. Che adesso avrà un impegno in Champions League. Non ricordo onestamente con chi giocheranno. Voglio un attimo andare a vedere. Con un'Atalanta che comunque in tutto questo, tra tutti questi casini, trascinata anche da Orreteghi che veramente sembrano stopparci, si porta a seconda in classifica. Ecco, la prossima è con lo Stuttgart. Sono curiosissimo di vederla. Mi auguro che non sia in contemporanea con la Juve. Ma dovrebbe essere questa partita martedì. Quindi non dovrebbe teoricamente essere in contemporanea con la nostra Juve. Comunque, io come sempre vi saluto. Noi ci vediamo. Al prossimo video. Bella. Ciao.